Uno degli obiettivi principali di molti villain in Marvel è sempre stato quello di conquistare il mondo. Quante volte l'avete sentita questa cosa? Beh, pensate che Doom ci è riuscito diverse volte, ovviamente una molto famosa, quando distrugge il multiverso e quindi ne ricrea uno a sua immagine praticamente. Ma nel video di oggi, che è la seconda parte del video dedicato all'ador di questo personaggio, parliamo proprio di due momenti in cui Doom ha conquistato di fatto il mondo, e sono dei momenti molto interessanti. Questa sicuramente è una parte molto molto bella della lore. E quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se video del genere vi piacciono, se volete conoscere tutto sulla lore di questi personaggi, anche perché ovviamente sul canale non parliamo solo ed esclusivamente di Doom. Quindi seguiteci se volete continuare a usufruire di questi contenuti e magari lasciate anche un mi piace così anche noi sappiamo che questi video di fatto vi piacciono. Detto questo, io direi che possiamo cominciare, ma prima vi ricordo anche un'ultima cosa, ovvero il nostro sponsor Redhawk, che è il nostro negozio, trovate il link in descrizione. Ricordatevi che trovate un sacco di prodotti a tema Marvel, d'action figures a Funko Pop, e in più che avete a disposizione il codice sconto YouTube per avere il 10% di sconto, ma anche che con 60€ di spesa la spedizione è sempre gratuita. Quindi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi queste cose, e io direi che possiamo partire dal nostro protagonista, che decide di fare qualcosa di strano sin da subito. Difatti, Doom a un certo punto decide di rapire Purple Man. Chi è questo Purple Man, ragazzi? È un supervillain che ha il potere del controllo mentale. Doom non solo decide di rapire Purple Man, ma riesce ovviamente a non farsi controllare, chiaramente, ma decide di utilizzare i suoi poteri, e già questa cosa è abbastanza malefica, ma non solo, decide anche di portare gli effetti dei poteri di Purple Man in tutto il mondo. Inserisce quindi questo personaggio in una sorta di prisma che è collegato a diverse apparecchiature create proprio da Doom, e quindi il controllo mentale di Purple Man, soggiogato da Doom, arriva in tutto il mondo. Grazie a questo nuovo controllo mentale, Doom costringe, di fatto convince, potremmo dire, le Nazioni Unite, a farlo diventare imperatore del mondo. Ed è quello che succede, questa è proprio una roba canonica di Terra 616, e per intenderci, Doom diventa imperatore del mondo per diverso tempo. Durante il suo controllo sul pianeta, Doom riesce a far avanzare tecnologicamente diverse civiltà, il che comunque potrebbe essere una cosa positiva, ma dall'altra parte chiaramente non c'è nessuna libertà per i cittadini. L'unico personaggio che riesce comunque a resistere al controllo mentale di Purple Man è proprio Wonder Man, che decide quindi di utilizzare i suoi poteri per, piano piano, liberare anche altri eroi della Terra. Insieme poi decideranno di affrontare Doom, andranno su Doom Island, l'isola in cui è tenuto prigioniero Purple Man, e riusciranno a distruggere questo macchinario, questo prisma, e a sconfiggere anche a loro volta ovviamente Doom. Quindi Doom chiaramente perde il titolo di imperatore della Terra e rimarrà da solo, rimarrà a essere l'unico re di un'umile nazione, ovvero Latveria. Peccato però che poco dopo il nostro Doom decide di tentare il tutto e per tutto, ingannando un personaggio molto importante per la Marvel. Questo personaggio, ragazzi, è il nostro Doctor Strange. Vi ricordate infatti nella prima parte della storia di Doom cosa abbiamo detto di sua madre? Sua madre Cinzia, a un certo punto, per colpa di un patto con Mephisto, viene rinchiusa, almeno la sua anima, viene rinchiusa all'inferno. Doom inganna Strange, Strange è costretto a prendere il posto della madre di Doom, Cinzia, all'inferno. Quando sua madre si rende conto di che cosa ha fatto il suo bambino, perché sua madre, se lo ricordo ovviamente da bambino, inizia a odiarlo. Odia tantissimo quello che ha fatto Doom, perché lei non avrebbe mai permesso una cosa del genere, non avrebbe mai permesso che qualcun altro avrebbe preso il suo posto nelle sofferenze dell'inferno. Quest'odio, pensate, è talmente grande che per sua fortuna le apre le porte del paradiso, rompendo così anche il patto che fece con Mephisto. Così che anche Strange, che aveva preso il suo posto, non deve appunto tenere il suo posto e quindi può essere liberato di conseguenza. Qua tra l'altro c'è anche una sorta di diatriba tra i fan, perché neanche lo stesso Strange capisce se Doom aveva previsto questa cosa oppure no. Aveva previsto che sua madre lo odiasse, che quindi avrebbe spezzato così il patto con Mephisto, che quindi avrebbe liberato di fatto Doctor Strange. Non si sa. Semplicemente quello che vediamo alla fine di questa breve storia è che il nostro Doom accetta di buon grado l'odio di sua madre perché dice che vedere sua madre in paradiso invece di saperla sempre all'inferno vale comunque l'odio che ha ricevuto. E questa è una cosa, secondo me, molto bella di Doom. Poi non sapremo mai se voleva effettivamente tenere Strange lì oppure no. Questo rimane un mistero. Ma un'altra cosa che rende Doom quasi un personaggio positivo è uno scontro che Doom ha a un certo punto con un personaggio molto importante per la lore Marvel, ovvero Onslaut. Chi è questo personaggio? Ragazzi, è l'unione psionica del Professor X e di Magneto, che a un certo punto diventa talmente tanto importante e talmente tanto forte che gli Avengers e gli X-Men sono costretti a allearsi per affrontarlo. Anche Doom partecipa a questo combattimento e questo sembra essere una cosa positiva, ma chiaramente in realtà voleva solo prendere il suo potere. A un certo punto, durante la parte finale del combattimento, c'è una grandissima esplosione e in questa esplosione scompaiono diversi personaggi, tra cui i Fantastici 4, il nostro Doom e anche per esempio Iron Man. Gli altri eroi quindi sono stupefatti, perché non capiscono cosa sia successo, ma poi la risposta ci arriva ed è molto molto semplice. Onslaut infatti durante il combattimento aveva rapito Franklin Richards, il figlio di Mr. Fantastic, per utilizzare i suoi poteri. Proprio Franklin Richards infatti ha salvato all'ultimo gli eroi, e non solo perché anche Doom è tra questi, che sono esplosi tra virgolette durante il combattimento, e li ha riportati in una dimensione tascabile, una piccola dimensione che ha creato lui stesso. Questa dimensione è chiamata Controterra, ed è appunto una dimensione parallela in cui comunque le cose sono molto molto simili a quelle che ci sono sulla Terra. A un certo punto però le cose diventano complicate per il nostro Franklin, perché i Celestiali mandano un loro messaggero per dire che questa Controterra sta diventando pericolosa, perché è al di fuori del creato. E quindi Franklin deve scegliere quale pianeta deve continuare ad esistere. La Controterra o la Terra originale? Franklin quindi alla fine decide di risolvere il tutto, e quindi vediamo che gli eroi della Terra, anzi della Terra che sono finiti nella Controterra, decidono di prepararsi a partire e tornare, grazie all'aiuto di Franklin chiaramente, nella loro Terra originale. Durante questo, diciamo, spostamento di eroi, in questa sorta di portale gigantesco, Doom cerca anche di combattere contro Thor, sempre per prendere il controllo di questa faccenda. Ma alla fine rimarrà, ovviamente a suo malgrado, nella Controterra. In realtà questa sembra essere una cosa estremamente negativa per il nostro Doom, che finisce appunto qui sulla Controterra, ma in realtà lui si ritrova lì senza eroi da battere, e quindi, in un ben che non si dica, Doom riesce tranquillamente a conquistarla, facendola diventare quella che anche molti fan si ricorderanno come Doom World, di fatto il mondo di Doom, una Terra totalmente conquistata da Doom, questa volta senza alterare la mente di nessuno, ma chiaramente qua arriva anche un Celestiale, pronto a distruggere la Controterra, ma stiamo parlando comunque di Doom, ragazzi. Difatti si fa trovare pronto e riesce a rubare, anche se per breve periodo, i poteri di un Celestiale, almeno li utilizza proprio per tirare fuori la Controterra dalla sua dimensione tascabile. Di fatto quindi il Sistema Solare, grazie a questa tecnologia di Doom, ottiene un nuovo pianeta, questa Controterra, che si trova dall'altra parte della Terra rispetto al Sole, e Doom rimane essere ovviamente il suo imperatore. Comunque Doom, alla fine, lo vedete, è un villain, lui però vuole conquistare la Terra, vuole distruggere, il che è molto diverso, anche lo stesso Stan Lee fece un discorso interessante proprio per spiegare Doom. e infatti lo stesso Celestiale a un certo punto prova ad attaccare la Terra e Doom è proprio uno di quelli che riesce comunque a salvare il pianeta originale, quindi il pianeta Terra, dal Celestiale. Alla fine verrà retronizzato e quindi sarà costretto nuovamente a tornare sul suo pianeta natale, quindi sulla vera e propria Terra e in particolare a Latveria. e proprio perché stiamo citando sempre di più questa parte di Doom come un personaggio che ha un cuore, ecco, direi di passare a una delle parti preferite del fandom. Infatti, poco dopo questi eventi, Doom avrà da lì in poi un buonissimo rapporto con un personaggio, ovvero Valeria di Richards, la figlia di Mr. Fantastic e la donna invisibile, la loro seconda figlia, perché avrà un buonissimo rapporto con le ragazzi? Perché di fatto Doom riuscirà a farla nascere. A un certo punto, infatti, la nascita di Valeria sembra essere impossibile. È estremamente dolorosa per Sue e non sembra essere possibile una nascita normale con entrambe sopravvissute. Reed non sa più che pesci prendere e Johnny, ovviamente la torcia umana, fratello di Sue, decide di andare dall'unico che secondo lui può risolvere il tutto, ovvero Victor Von Doom. Doom, di fatto, accetta e decide di far nascere Valeria. Non solo riesce a far nascere Valeria, ma anche Sue sopravvive. Doom utilizza questa cosa per umiliare Reed, ovviamente, perché lui è la drama queen di tutte le drama queen, quindi non ha neanche tempo di godersi questo momento nel momento di una nascita, ma dice subito a Reed sono riuscito a fare quello che tu non sei riuscito per l'ennesima volta. Però Doom chiede una cosa, l'unico compenso, tra virgolette, che chiede Doom è il poter dare un nome a Valeria. Infatti la chiama proprio Valeria, perché la chiama così? Perché, se vi ricordate, dalla prima parte Valeria è la sua grande amata, il suo grande amore, tra l'altro, d'infanzia, che è una donna che vive a Latveria, e quindi Valeria prende il suo nome. Ah, che cosa dolce per Doom. Doom diventa di fatto il padrino di Valeria, e poi questo rapporto si evolverà nel corso degli anni. Lui prenderà veramente sul serio questa cosa. Doom è uno che le cose le prende sul serio, qualsiasi cosa, e quindi anche il suo ruolo da padrino lo prenderà in modo molto, molto serio. E molti diranno Ah, ma quindi vedi che Doom ha un cuore d'oro molto, molto bello. Però ragazzi, avrete capito che in questa serie dedicata proprio a Doom, noi facciamo vedere delle cose molto positive, ma poi si passa subito delle cose estremamente negative. Difatti, dare questo nome a Valeria fa venire in mente a Doom un piano. Viene contattato da tre demoni. Questi tre demoni, come sempre fanno i demoni in qualsiasi media, gli propongono uno scambio. Ovvero, loro gli avrebbero dato i poteri magici che Doom avrebbe conquistato, avrebbe appreso nel corso della sua carriera da scienziato se al posto di studiare le scienze e le tecnologie avesse proprio studiato la magia. In poche parole, stiamo parlando di poteri magici enormi. In cambio, però, Doom avrebbe dovuto donare a loro qualcosa che per lui è insostituibile. E sapete che cos'è insostituibile per Doom? Proprio Valeria. Non Valeria Richards, attenzione. Valeria, il grande amore di Doom. Doom in realtà decide proprio di sacrificarla e vediamo questa scena per me veramente simbolica anche del personaggio di Doom in cui il corpo di Valeria piano piano in modo sicuramente molto doloroso si trasforma in questa nuova armatura di Doom donando a Doom moltissimi poteri magici. Doom quindi inizia a fare veramente quello che vuole, imprigiona Franklin Richards all'inferno, i Fantastici 4 non sono più sicuramente un problema per lui rinchiude addirittura la forma astrale di Doctor Strange e sa benissimo di essere il più forte in quel momento sulla Terra. Come sempre succede però a tutti i villain della Marvel ovviamente ci deve essere qualcosina che gli eroi possono utilizzare. Difatti Richards riesce a liberare la forma astrale di Strange Strange dona un po' dei suoi poteri a Reed giusto per far uscire i Fantastici 4 dalla prigionia di Doom e insieme quindi cercano di costruire un piano. Questo piano porterà i demoni con cui Doom ha fatto questo patto a odiare lo stesso Victor Von Doom. In poche parole si sentiranno traditi e decideranno di togliere intanto tutti quei poteri magici estremi che gli avevano donato è di riportarlo con loro all'inferno. Doom di fatto viene portato all'inferno e ci rimarrà per diverso tempo lasciando liberi Fantastici 4 Franklin e anche Doctor Strange e tutti gli altri eroi della Terra. L'inferno sembra essere una prigione proprio adatta per un personaggio come Doom e lui ci rimarrà per diverso tempo. Però attenzione qua la Marvel arriva per darci un gran bell'insegnamento. Difatti tu puoi essere il miglior scienziato della Terra puoi essere il miglior mago della Terra e Doom c'è praticamente riuscito almeno quasi in tutti e due i campi però poi serve sempre il fattore C. Difatti a un certo punto sapete che cos'è che libera Doom dalla sua prigionia? Il Mjolnir il famoso martello di Thor che precipita sulla Terra e precipitando ad altissima velocità che cosa fa? Rompe il tessuto spazio-temporale aprendo una breccia proprio in altre dimensioni vicino alla Terra ovvero anche l'Inferno. Doom quindi si vede passare sto Mjolnir e vede aprirsi finalmente una breccia tra le dimensioni. Riesce quindi finalmente a uscire questa volta finalmente dall'Inferno e se ne torna Latveria. Latveria durante quel suo periodo di prigionia all'Inferno era stata completamente demilitarizzata da Reed Richards ma chiaramente anche qui stiamo parlando di Doom da solo avete visto in questo video ha preso il controllo della Terra due volte figuratevi se non può riprendere il controllo della sua nazione in pochissimo tempo quindi ritorna a essere il re di Latveria e qua nasce una nuova fissa di Doom almeno una fissa che ha per veramente pochissimo tempo perché poi prenderà una grandissima delusione difatti decide di cercare il Mjolnir vedendosi passare il Mjolnir che lo ha salvato Doom sente di essere il degno erede di questo grandissimo potere insieme quindi ai suoi militari troveranno il martello Doom proverà a sollevarlo ovviamente fallendo rendendosi conto di non essere degno e quindi Doom accantonerà tutti i suoi piani riguardanti la conquista del mondo col martello di Thor perché capisce che non è cosa sua ma almeno la sua prigionia nell'inferno è finita come andiamo verso la conclusione anche di questo video come sempre però faccio con Hawk Comics ragazzi ricordatevi che qua i contenuti non finiscono mai e quindi visto che questa è la seconda parte della serie di Doom vi lascio con la prima la prima la trovate qui qui non lo so da che parte del video ma recuperatevela perché secondo me le origini Doom sono comunque molto interessanti da recuperare e noi ci vediamo prestissimo con la terza parte e con altri personaggi a tema Marvel ciao ragazzi